Benvenuti nel mondo degli orologi Ressens. Ressens è un marchio belga di orologi di lusso che ha fatto della sua innovazione tecnologica il suo punto di forza. Fondato nel 2010 dal designer belga Benoit Mantian, Ressens ha saputo distinguersi nel panorama degli orologi di alta gamma grazie alla sua caratteristica distintiva, un innovativo sistema di visualizzazione del tempo. Per rendere più chiara e intuitiva la lettura del tempo infatti le lancette sono sostituite da dischi rotanti. Niente più lancette che si sovrappongono grazie ad un approccio completamente diverso da quello tradizionale che rendono i segnatempo Ressens unici nel loro genere. Altra innovazione esclusiva del marchio belga è la creazione di quadranti ripieni di olio che grazie alla particolare rifrazione ottica del liquido fanno sembrare le sfere disegnate direttamente sul vetro come in un orologio digitale per una perfetta visualizzazione in tutte le condizioni. La ricerca estetica di forme di puro design ha spinto il suo fondatore a eliminare la classica corona spostando il comando di ricarica e regolazione sul fondello dell'orologio. Vediamo insieme quali sono i modelli del marchio. Type 1. Il Type 1 è il primo modello di creato da Ressens e caratterizzato dal sistema di visualizzazione del tempo a dischi rotanti con ora, minuti, piccoli secondi, giorno della settimana e giorno notte. Il Type 1 è disponibile in diverse varianti tra cui il Type 1 round, il Type 1 squared. Type 2. Il Type 2 è il più complicato dei Ressens e integra al movimento meccanico automatico un modulo chiamato e-crown alimentato a energia solare. Grazie all'unione delle due tecnologie il Type 2 indicherà automaticamente l'ora esatta anche dopo un lungo periodo di inattività e visualizzerà anche altri due fusi orari grazie alla funzione GMT. Type 3. Il Type 3 oltre alla classica visualizzazione Ressens dell'ora con dischi rotanti presenta un'altra particolarità unica, il quadrante riempito d'olio. Il brevetto della casa belga permette una perfetta visualizzazione del quadrante in ogni situazione e da ogni angolazione. Sul quadrante sono presenti ore, minuti, piccoli secondi, datario, calendario, giorno notte e la temperatura dell'olio. Type 5. Il Type 5 è il modello subacqueo della casa belga. Caratterizzato dal quadrante a dischi rotanti della casa, è fornito di una corona rotante per controllare i tempi di immersione. Subacqueo fino a 100 metri di profondità permette una perfetta visione dell'ora anche sott'acqua evitando i riflessi a specchio grazie al quadrante riempito d'olio. Sul quadrante ore, minuti, piccoli secondi e la temperatura dell'olio. Type 8. Il Type 8 è caratterizzato dalla sua semplicità e purezza visiva. Il quadrante a dischi tipico della maison belga in questo caso pulito e minimalista presenta solamente le sfere di ore e minuti. Molto particolare il vetro a cupola che va a unirsi alla carrure in titanio. Se stai cercando un orologio di lusso che sia anche tecnologicamente avanzato, gli orologi Ressens potrebbero fare al caso di un altro tour. . . . . . . .